Sento che bruciano il tifo? La bottiglia di idromiele in mano, pezzo. Cosa ne pensa lei? È una gran figata, ragazzi. Poi si sta bene, si ascolta una bottiglia di idromiele. Con l'effetto fuoco, una gran figata. Raccontami un po' la storia. Allora praticamente ci conosce questa confraternita del Leone che organizza questo Celtic Day in memoria delle usanze che avevano i popoli nordici. E' vero, e ci hanno fatto il fuoco sacro che praticamente girano intorno al fuoco sacro e dovrebbe portare comunque fortuna e benevolenza nella vita delle persone che girano in questo fuoco sacro. Giusto? Grazie. Alla prossima lezione. Delirio all'improvviso. Che scocco. Non lo farò di più vedere che sono i cosi. Sto a suonare. Il fuoco stai. Girano! Si sattido! Grazie.